Buongiorno, sono Paolo Marini, titolare di Marcos, che gestisco insieme a mia moglie Daniela. Marcos fu fondata dalla mia famiglia nel 1968 a Mondovì, una bella città di origine medievale ricca di storia e cultura, anticamente la città più popolosa del Piemonte. Da 50 anni selezioniamo le proposte moda più esclusive dai capi sartoriali ai brand del lusso per uno stile classico e cosmopolita. Oggi, grazie alle shop, le nostre vetrine si affacciano su ogni continente. Al Mipel stiamo cercando nuove ispirazioni e in particolare un prodotto made in Italy di bella qualità con un target price equilibrato che soddisfi tutte le esigenze.